Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo all'incontro tenuto ieri al Ministero dello Sviluppo Economico in merito all'avvertenza Gela. Leni ha riferito di avere rinunciato al progetto della maxipiattaforma prezioso K, solo sfruttamento dei giocimenti Argo e Cassiopea attraverso una centrale a terra. Sostanzialmente si perdono tanti soldi di investimento, considerato che la gran parte delle coperture finanziarie previste dall'intesa del 6 novembre del 2014 era destinata proprio all'offshore. Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, invece, getta acqua sul fuoco. Solo sfruttamento dei giocimenti Argo e Cassiopea attraverso una centrale a terra e niente piattaforma prezioso K, pur avendo vinto i ricorsi presentati da 6 comuni delle province di Agrigento e Ragusa. E quanto deciso ieri da Eni, il Canes e Zampe, durante l'incontro che si svolto al Mise, ha riferito di avere rinunciato al progetto della maxipiattaforma all'argo delle coste gelesi. Sostanzialmente si perdono tanti soldi di investimento, considerato che la gran parte delle coperture finanziarie, parliamo di 1,8 miliardi di euro, previste dall'intesa dal 6 novembre del 2014, era destinata proprio all'offshore. L'investimento è tuttora in piedi, soltanto la versione di progetto, quindi l'investimento sul nostro territorio rimane nella sua interezza. La differenza è che a posto di realizzare una piattaforma, gli impianti verranno realizzati sulla terraferma e questo da permettere che ci sono dei vantaggi evidenti. Intanto non verrà realizzata la piattaforma con problemi di tipo ambientale che potremmo scatogliere anche per tutte le precauzioni. In secondo luogo la possibilità di realizzare l'impianto dentro l'area industriale di Gela, che di fatto evita una sua desertificazione e che consente di poter far lavorare le maestranze per realizzare questi impianti di trattamento gas. Cosa che invece sulla piattaforma era messa in dubbio, come tutti ben sappiamo, mancavano quelle strutture portuali, quel famoso giardio di costa che consentiva di poter realizzare la piattaforma Gela e quindi questo lavoro quasi sicuramente sarebbe stato fatto altrove. Il colosso industriale, dice il sindaco, ha assicurato tra diretto e indotto occupazione per circa 1200 operatori. Con la realizzazione del cantiere all'interno dell'area industriale di Gela e con il fatto che già stanno portando altri interventi come l'ISAS, che ieri abbiamo avuto la conferma che tutto l'ISAS finalmente autorizzativo è stato completato, significa incrementare altri posti di lavoro sia per quanto riguarda gli operai dell'indotto e sia con la possibilità di avere del personale dell'EMI di poter realizzare in sede. Il premier Renzi continua il primo cittadino, Sancisca e il ruolo euro-mediterraneo di Gela. Gela ha cambiato la sua mission, sta svoltando con l'accordo del GNL, con il fatto quindi di utilizzare una crisi affiner che sarà di quarta generazione, non più di prima, quindi passando dall'olio di Palma a scarti di altro tipo che quindi la rende ancora più sostenibile, di fatto ha una sua collocazione naturale per diventare un hub logistico e un hub energetico del Mediterraneo. Questa visione che per noi dall'amministrazione, ma devo dire per molti inglesi e molto cara, deve essere giustamente condivisa col premier Renzi perché cerchiamo questo supporto, perché un'operazione del genere ha una valenza non soltanto per il territorio di Gela, non soltanto per la Sicilia, ma direi per tutta l'Italia e per tutta l'Europa. Le attività della culina refineri, spiegano i manager di Eni in una nota ufficiale avviate all'inizio del mese, procedono in linea con i programmi. Attualmente sono impiegate più di 150 risorse dell'indotto locale per un totale di 80.000 ore lavorate e si prevede entro fine anno di arrivare alle 200 unità a cui si andranno ad aggiungere ulteriori 50 risorse esterne. Dal punto di vista dell'approvvigionamento è stato emesso a giugno scorso, in anticipo di circa un anno, l'ordine per l'acquisto e l'installazione dell'impianto per la produzione di idrogeno, uno dei sistemi principali per lo sviluppo della seconda fase del progetto. Ad oggi, sottolinea Eni, gli investimenti superano gli 80 milioni di euro, includendo le somme spese e gli impegni già assunti. Il 15 settembre scorso, inoltre, il Ministero ha confermato la completezza della documentazione tecnica ricevuta ed il conseguente avvio del procedimento via AIA con nomina della responsabile unico del provvedimento in relazione alla fase di riconversione che prevede l'utilizzo dello steam reforming e dell'impianto per il trattamento dell'olio di palma e delle materie prime di seconda generazione. In merito a quanto accaduto ieri al Mise, il Partito Democratico dice si tratta dell'ennesimo scippo consumato ai danni della città. Forte preoccupazione per l'esito dell'incontro di ieri al Ministero dello Sviluppo Economico è stata manifestata dal Partito Democratico di Gela. Il segretario Peppe Di Cristina, il presidente Claudio Caizza e il capogruppo consigliare Enzo Cirignotta parlano di un ennesimo scippo di investimenti consumato ai danni della città, con la compiacenza di un'amministrazione comunale assolutamente inadeguata a rappresentare gli interessi della nostra comunità. Il PD ricorda, dopo che il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso di alcune associazioni ambientaliste, l'ENI non ha più alibi, proceda immediatamente alla costruzione della piattaforma Prezioso K. Risultato è in Italia proprio quell'investimento. Per il PD, ancora una volta, il cane a sé zampe, sfruttando la debolezza di un'amministrazione che rappresenta se stessa, ha letteralmente stravolto il protocollo d'intesa del 6 novembre del 2014. Il protocollo, che seppur criticato, prevedeva investimenti imponenti per il nostro territorio. Secondo noi, ieri al Mise si è consumato l'ennesimo scippo di investimenti e danni della nostra città, con la compiacenza di un'amministrazione comunale, che ormai, l'abbiamo capito tutti, non è in grado di tutelare l'interesse del nostro territorio. Si era detto che dopo il rigetto del ricorso del Consiglio di Stato, da parte di alcune associazioni ambientaliste, Lenin non aveva più scuse per realizzare quell'intervento che, ricordiamo, la costruzione del Prezioso K. Ecco che allora domani e ieri Lenin taglia proprio quell'investimento, meno 800 milioni di euro che vengono a mancare alla nostra città. Ma quello che a noi fa rabbia è che, come è stato possibile che l'amministrazione comunale, di fronte a questa rinuncia di investimenti, non ha detto niente. In questi 15 metri, tutti questi viaggi a Roma, andati e ritorno da Roma, che hanno pesato tantissimo sulle casse comunali, cosa sono andati a fare? Cosa sono andati a contrattare? Ma questi soldi, gli investimenti, promessi in merito al protocollo del 6 novembre 2014, arriveranno? Ma ad oggi quindi il 40% del protocollo non c'è più. Quindi con questo annuncio di Ene il protocollo del 6 novembre 2014 è stato svuotato. Faranno un'impianto a terra, ma è tutta una pagina da scrivere, quello dell'impianto a terra. E quindi ritengo che in questo momento la città, il Consiglio Comunale, debba prendere per mano questa situazione. In quanto questa giunta comunale ha dimostrato di non avere l'autorevolezza per andarsi a sedere a tavoli ministeriali e trattare alla pari con Ene e Governo nazionale. Infatti già chiederemo nei prossimi giorni la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario per trattare il tema della riduzione dell'investimento di Ene sul nostro territorio. E chiarezza di interventi immediati sono stati sollecitati dalle organizzazioni sindacali sul protocollo Ene. Perplessità sulla volontà manifestata da Ene di modifica del progetto di costruzione della piattaforma Argo Cassiopea che prevede la riduzione della portata finanziaria dell'investimento programmato nell'entese. Il rispetto di quanto definito negli accordi del 6 novembre 2014 è fondamentale per il rilancio del sistema industriale con gli effetti previsti per l'occupazione diretta e indiretta. Lo dicono i segretari generali di Cigelle e Cisle Will in merito all'incontro di monitoraggio sul protocollo Gela che si è svolto ieri al Ministero dello Sviluppo Economico. Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Maurizio Castania rivendicano chiarezza e chiedono al colosso industriale rassicurazioni in tal senso. Leni sottolineano dovrà pertanto garantire alla città di Gela che gli investimenti concordati non subiscano nessuna modifica. Pur apprezzando le ricadute sul piano della sostenibilità ambientale e delle previsioni occupazionali ipotizzate dal nuovo progetto di realizzazione di impianti a terra nell'area della raffineria ribadiamo, continuano i sindacalisti, l'importanza del rispetto delle tempistiche realizzative dell'accelerazione degli iter autorizzativi e della certezza delle realizzazioni industriali ed infrastrutturali. Il tutto dovrà essere verificato da un continuo monitoraggio nazionale e locale attraverso incontri sia di natura tecnica che politica. Il Governo ha tra proposito ribadito la necessità delle verifiche articolate e che l'eventuale risparmio determinatosi con la rimodulazione del progetto originario venga reinvestito da Eni sul territorio gelese. Infine è stato previsto un ulteriore incontro per gennaio 2017 al fine di valutare la coerenza degli obiettivi fissati nel protocollo, molti dei quali attuabili da mesi. Ciò che l'Eni risparmia in merito alla realizzazione dei progetti va investito a Gela chiudono Giudice, Gallo e Castania. Il piano di ottimizzazione del progetto Eni per l'area di Gela, Argo, si potrebbe presentare positivo ma abbiamo chiesto che i risparmi economici che saranno ottenuti vengano reinvestiti sul territorio per l'ulteriore rilancio dell'area. Lo dice la segretaria UGL chimici di Caltanissetta, Andrea Lario, al termine del tavolo di verifica che si è tenuto al Mise con il vice ministro Teresa Bellanova, parti sociali, verticieni e rappresentanti delle istituzioni locali. Il piano, spiega, consentirà di ottenere benefici a livello di impatto ambientale ed energetico oltre a consentire di ridurre le risorse utilizzate ed incrementare il personale impiegato nell'indotto. Tuttavia, aggiunge, è importante che le risorse risparmiate siano impiegate nell'area industriale di Gela affinché i lavoratori coinvolti, sia diretti che dall'indotto, e il territorio possano beneficiarne direttamente. Abbiamo inoltre sottolineato, aggiunge Alario, che il cronoprogramma previsto dal protocollo siglato nel 2014 sia rispettato e che ci siano verifiche a cadenza più serrata al fine di monitorare costantemente gli investimenti e il rilancio dell'area. Cambiamo argomento, nuovo arresto in pochi giorni per il giorese Fabrizio D'Aleo, 21 anni, che vediamo nella foto. Il ragazzo è stato sorpreso ieri dai carabinieri in Via Palazzi, nonostante avesse l'obbligo dei domiciliari. Alla vista dei militari dell'arma ha provato ad entrare in ospedale, adducendo la scusa che stava male. È stato prontamente smentito dai medici. Sono in pagamento al Comune di Gela i contributi relativi all'acquisto dei libri di testo riservati agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2013-2014. lo ha reso noto l'assessore comunale ai servizi sociali e all'istruzione Licia Abela. I beneficiari degli eventi di ritto per riscuotere la somma dovranno recarsi agli sportelli della banca Unicredit muniti di documento di riconoscimento valido e codice fiscale. I cimiteri di Farello e Monumentale a Gela sono in condizioni molto precarie. Il degrado regna sovrano. Nel nostro cimitero sono sepolti molti cittadini le cui tombe sono abbandonate a se stesse. La denuncia è del consigliere comunale di un'altra Gela, Salvatore Sammito. Dal personale in servizio, dice Sammito, ho saputo che c'è solo un operatore per un'ora al giorno. Non ci sono parole per descrivere lo stato di degrado e di abbandono in cui versano i nostri cimiteri. Domenica andai al cimitero di Farello a trovare mio padre. Ho riscontrato sporcizia, fiori secchi, vasi mancanti in molte lapidi. Mio padre stesso mi ha rimproverato da defunto dicendomi che il consigliere comunale non ti fai valere, non dici niente riguardo alla sporcizia che regna qua dentro. Io invito l'amministrazione, onde evitare palliativi come al solito, tamponamenti, di programmare delle pulizie ordinarie, non è ammissibile che una sola persona per un'ora al giorno faccia le pulizie all'interno del cimitero, considerando la grandezza che c'è. Già che uno soffre di suo perché deve andare a trovare un proprio carro. Se poi dobbiamo aggiungere che per renderlo visibile agli altri e a se stessi, per un decoro proprio, si devono munire discopa, palette e bottigliette con l'acqua, questo è veramente inconcepibile. Non dovrebbe essere considerato che si tratta di un luogo sacro pulito 365 giorni l'anno? Effettivamente sì, lei ha ragione, dovrebbe essere, ma allo stato dei fatti non lo è. Non lo è perché l'amministrazione non ha una programmazione adeguata alla pulizia dei cimiteri. Io faccio un invito, non da consigliere, benzi da cittadino, visto che il sindaco vanta che parla con la città e non con la politica, da cittadino gli dico provveda immediatamente e non in prossimità del giorno dei difunti, ma 365 giorni l'anno, come lei ben diceva, a predisporre un calendario ordinario per la pulizia e la manutenzione e la sorveglianza all'interno dei cimiteri. Mercoledì 12 ottobre è l'ultimo giorno utile per poter presentare all'ufficio di protocollo generale della Comune di Gela l'istanza per ottenere l'abbonamento o il contributo per il trasporto scolastico. Nel primo caso la domanda per accedere al servizio gratuito va presentata dalle famiglie degli alunni delle scuole primarie e secondarie residenti a Femmina Morta, Roccazelle e Borgo Manfria, termini aperti anche per i nuclei familiari degli studenti che si reccano in un comune diverso da Gela per frequentare le scuole secondarie di secondo grado. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, martedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione la carta e i cartoni ben piegati e impilati. Conferire giornali, quotidiane riviste, libri e quaderni privati da altri materiali, fotocopie e fogli usati, imballaggi in cartone, cartoni per pizza solo se puliti, contenitori in tetrapack a vuoti, privati dei tappi, lavati e scolati, scatole per alimenti e nonna, buste, sacchetti zucchero e farina, scioper in carta, tovaglie in carta non unte. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche, senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Siamo ritornati, seconda parte del telegiornale. Fino al 25 settembre si svolge Match It Now, la settimana nazionale per la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche. Anche Gela scende in piazza, sabato 24 settembre, in Viale Corte Maggiore a Macchitella, in collaborazione con la Croce Rossa, i VIP Clown di Caltanissetta e con il patrocinio del Comune, i volontari di Admo Gela e di Adoces Sicilia Ollus accoglieranno tutti coloro che vorranno ricevere informazioni. Fare squadra tra i cittadini e le forze dell'ordine per creare un percorso virtuoso che conduca i giovani verso la consapevolezza che il rispetto delle regole è l'unica garanzia per un futuro migliore. Questo è il messaggio ribadito più volte nel corso del convegno Obiettivo Sicurezza e Legalità nel Paese che Cambia, organizzato nella sala Papa Paolo Giovanni II del CEF passa dal SIAP, il sindacato italiano appartenenti Polizia, durante l'ottavo congresso regionale Sicilia. L'obiettivo è quello di creare una sinergia tra i cittadini, le istituzioni, tutti gli enti chiamati a garantire la sicurezza vera e una legalità che dia una risposta in termini di tranquillità e serenità ai nostri cittadini. Un convegno al quale, oltre agli appartenenti alle forze dell'ordine, ha preso parte una nutrita rappresentanza degli studenti degli istituti superiori del Galileo Galilei, del Rapisardi e del Dirocco. Il sindacato di Polizia, attore sociale, trade union tra lo Stato e la formazione delle coscienze nelle nostre scuole. Un po' per seguire anche il nuovo modo di pensare italiano, investimento in cultura, investimento in sicurezza. Quindi investimento per la formazione dei giovani, per la legalità di domani, per mantenere alto un livello di democrazia efficiente, investendo poi sulla sicurezza in maniera contemporanea due binari paralleli per migliorare la qualità del nostro servizio e uscire in conto di tanti operatori. Numerosi gli interventi che si sono susseguiti durante il convegno sulla necessità di legalità e sicurezza nel paese a difesa e garanzia dei cittadini. Penso che la sicurezza, quella cattiva, va messa da parte. Quella che ad esempio in Egitto ha colpito Reggeni, quella che ad esempio a Genova ha commesso dei reati. Ma la sicurezza che viene praticata quotidianamente dalle nostre forze dell'ordine è un'ottima sicurezza. È quella sicurezza democratica e liberale che deve, ecco la proposta, finalmente essere considerata un valore di rango costituzionale. D'altra parte noi reclamiamo un diritto che era già stato sancito, quello della ridistribuzione dei profughi. Per questo, parlando qui oggi a Caltanissetta, in questo straordinario incontro dei temi della sicurezza, ho detto che avere gli Stati Uniti d'Europa vorrebbe dire avere anche una polizia europea, perché come dimostra l'Ecronica di tutti i giorni, la capacità sia del terrorismo da un lato, qui in Sicilia conoscete bene la mafia, dall'altro è quella di organizzarsi con una dimensione che non è nazionale. Quindi noi abbiamo bisogno, la collaborazione c'è già tra le forze dell'ordine, ma serve più della collaborazione. Servirebbe un'Europa con strutture uniche per combattere organizzazioni criminali che hanno già di per sé strutture internazionali. Sarà presentato domani alle 17.30 presso l'Istituto Comprensivo Mattei, in Via Butera a Gela, l'ultimo libro della pluripremiata scrittrice, Simonetta Agnello Orbi, dal titolo Caffè Amaro. È la prima volta che l'autrice di successo approda a Gela. Ad introdurre i lavori sarà il dirigente scolastico Agata Quelli. La scrittrice parlerà del suo ultimo lavoro, conversando con il sociologo Francesco Pira, docente di comunicazione dell'Università di Messina. Brani del libro saranno letti dall'attrice Monica Bevelacqua. L'evento è organizzato in collaborazione con la libreria di Felicia Randazzo in Via Parioli. E ora parliamo di calcio. Quasi sicuramente la partita di domenica prossima, valevole come quarta giornata del campionato di Serie D tra Gela e Gladiator, sarà giocata all'esseneto di Agrigento, vista l'indisponibilità del Vincenzo Presti. Non c'è ancora l'ufficialità, ma quasi sicuramente Gela Gladiator di domenica prossima, valevole come quarta giornata del campionato di Serie D, sarà giocata sul campo neutro di Agrigento. Il terreno di gioco del Vincenzo Presti non è ancora pronto, nonostante l'impegno quotidiano profuso dalla ditta incaricata per la sistemazione del tappeto verde. Nelle prossime ore ne sapremo di più. In un primo momento si era pensato di far disputare la partita a Leonforte, ma la città dei Templi è molto più semplice da raggiungere. Stiamo operando per poter giocare ad Agrigento, ancora dobbiamo sbrigare le pratiche burocratiche con tutti i documenti da inviare alla Lega, previ all'autorizzazione della nostra società Acragas, della nostra consorella. Ci stiamo attivando, speriamo di riuscirci e poter comunicare ufficialmente di giocare ad Agrigento. Intanto il Gela si gode il primato in classifica e la squadra del momento. Ci godiamo questo momento positivo, ben cosci però delle difficoltà del campionato, siamo solo all'inizio, dobbiamo mantenere il giusto equilibrio, dobbiamo mantenere i piedi per terra, non facciamo voli pindarici, però è indubbio che questo inizio di campionato positivo ci permette di lavorare in serenità, con grande convinzione, autostima e siamo felici di poter regalare queste soddisfazioni ai nostri meravigliosi tifosi e alla nostra società. Si aspetta sempre una difensore centrale per completare l'organico. Ci stiamo lavorando, noi abbiamo chiaro il concetto che dobbiamo rimpolpare il reparto arretrato in quanto numericamente necessita di un altro elemento. Non vogliamo sbagliare, la nostra filosofia è quella di avere gente vogliosa, gente che ha fame, gente che ha voglia di emergere. Abbiamo parecchie trattative in corso, speriamo nel più breve tempo possibile di poter aggregare al gruppo un altro elemento, chiaramente con la convinzione di portare a Gela, un elemento che sia da Gela a Calcio e che ci dia una grossa mano d'aiuto. Ultimo appuntamento con la rassegna del Ladies Trump, promossa dal direttore artistico Francesco Castellana, con Anna Salsetta alla produzione esecutiva e con Francesco Tranito alla produzione tecnica. Domani alle 22 nel quartiere Macchitella si esibirà Evelyn Leone accompagnata da Angelo Di Marco. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.